ecco che con puntualità davvero asburgica abbiamo terminato tutti i talk di questa mattina di questa edizione del freelance camp online dedicata alla sostenibilità penso che ci siano un sacco di idee che ci stanno frullando nella testa abbiamo ancora a disposizione open per incontrarci salutarci e parlarne fare domande e raccontare le nostre esperienze nelle sessioni caffè e tequila colazione e poi naturalmente io spero che ci vedremo presto di nuovo sia online negli zoom club sia il 25 26 maggio a marina romea per la prossima edizione del freelance camp io prima di chiudere qui sul palco faccio veramente un altro giro di ringraziamenti sinceri a chi in qualità di sponsor ha permesso di realizzare questa edizione enel e banca etica innanzitutto poi a propos che sta gestendo in maniera eccellente la regia grazie giulia grazie francesco voi non li vedete sono in background e sono qui insieme a me da questa mattina presto grazie allo staff di digital update che come sempre fa funzionare tutto a calavon e grazie a home exchange naturalmente graditissima scoperta per tutti noi ci vediamo fra pochissimo di là nelle sessioni di chiacchiere e nelle prossime settimane mesi online e dal vivo ciao